È una grande emozione poter parlare a un pubblico così attento e voglioso di informazioni perché il nostro obiettivo è proprio dare un'informazione su un argomento così complesso che è la donazione degli organi e tessuti post-mortem che risente invece di retaggi culturali, cattive informazioni per cui la possibilità che ci ha dato il Giffoni è proprio di dare quelle che sono le corrette informazioni affinché chiunque di noi si trovi nella condizione di potersi dichiarare e succede grazie alla legge del 2021 che ci permette per esempio al rinnovo della carta di identità di esprimerci sull'argomento, vada con un'informazione corretta e consapevole. Io penso che oltre all'informazione data dai mezzi istituzionali, i giornali, le comunicazioni in generale quello che ritengo più importante sia parlare, il passaparola, il dire per esempio oggi ho assistito a questa manifestazione, parliamolo insieme, creiamo dei gruppi di confronto informiamoci anche attraverso i nostri sistemi di comunicazione istituzionali l'ASR, il centro regionale tra pianti, Instagram, Facebook, c'è di tutto e sono tutte informazioni che prese nei punti giusti possono darci maggiore serenità in una scelta che a volte fa un po' paura. Queste generazioni sono generazioni da un lato molto fortunate perché hanno tanti modi per informarsi ma dall'altro vivono un momento in cui c'è una sovrainformazione e non sempre quelle informazioni a cui hanno accesso poi possono essere quelle giuste. Quindi poter comunicare con chi ha voglia perché è giovane e quindi ha voglia di informarsi, di esporsi, di farti domande è sicuramente un vantaggio rispetto a chi ha un'età un po' più avanzata e quindi ha un background completamente differente.